La deprima del nostro telegiornale è come sempre alcune delle notizie di cui ci occuperemo tra pochissimo nella nostra edizione, innanzitutto Forio con Citarra, il Tar che ha colto il ricorso presentato dalla signora Del Deo, quindi adesso il Comune dovrà demolire gli abusi. Con l'ok definitivo che è stato espresso oggi dal Senato è divenuta legge quella sul biotestamento. Ci sposteremo poi a Procida dove ci sono stati dei finanziamenti della regione Campania per l'adeguamento e l'efficientamento energetico del presso scolastico di Via Libertà ed ancora il turismo sull'isola d'Ischia, il commissario dell'isola d'Ischia di Commercio Claudio Cigliano sostiene che è necessaria un'azione unitaria per tutta l'isola per rilanciare e promuovere il nostro territorio. Di questo e di altro ancora ci occuperemo tra pochissimo come sempre dopo la pubblicità. Sul porto di Ischia, sulla splendida Rivdruat, trovi il ristorante La Baia del Clipper. Nunzio e la sua famiglia, in una calorosa atmosfera, ti faranno gustare piatti dai sapori unici, specialità marinare, frutti di mare e pesce sempre di giornata, cucina tipica mediterranea e la classica pizza napoletana. Il porto di Ischia, il faro e La Baia del Clipper, il ristorante dove i sapori sposano il profumo del mare. Prenota da noi i tuoi banchetti delle festività natalizie. Brunch con musica dal vivo dalle 12 alle 17 del 24. Il cenone della vigilia, il pranzo di Natale e il cenone di San Silvestro. Per info e prenotazioni 081-333-4209. La Baia del Clipper ti aspetta per festeggiare con te. Sull'isola d'Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolordoppler, TAC multistrato, dentascan, MOC o zonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Basta aspettarla da Napoli, la vera mozzarella di bufala, adesso la produciamo a Ischia. Core e Latte, a Barano, in via Vincenzo di Meglio, il primo caseificio isolano. Mozzarella, ricotta, yogurt, formaggi, tutte le prelibatezze del latte con la qualità che risposa alla freschezza. Da Core e Latte sapete cosa mangiate. La mozzarella la facciamo davanti a voi. Vi aspettiamo per un viaggio nel gusto. Mille molliche, artigiani del gusto. Mille molliche, dove la passione per la cucina incontra l'esperienza dei maestri delle arti bianche. Il risultato? Pietanze dal gusto inconfondibile e prodotti assolutamente genuini. Da noi tutti gli ingredienti sono sapientemente selezionati. Per il processo di lievitazione usiamo il criscito, la magica pasta madre che rende i nostri prodotti da forno molto digeribili e particolarmente buoni. Da Mille molliche, trovi pane, pane speciale, pizze, cornetti, dolci, ma anche primi, secondi, contorni e sfizioserie da asporto. L'arte del mangiar bene. Mille molliche, artigiani del gusto. Il metano è sbarcato a Procida. Fallo entrare in casa tua. Non aspettare. Abbatti subito i tuoi costi con risparmi davvero impensabili. La ditta Ambrosino di origine procidana e azienda leader nel settore sull'isola Dischia. Scegli il nostro marchio Amico Metano e avrai un impianto chiave in mano tutto compreso. Ti garantiamo una progettazione seria e gratuita. Ti offriamo un'assistenza diretta. Potrai ratizzare i costi dell'impianto ed avere una detrazione fiscale fino al 65%. Telefona al numero verde 800 98 42 26. Il metano è sbarcato a Procida. Scegli un amico per portarlo a casa tua. Scegli Amico Metano del gruppo Ambrosino. Scaglione, la boutique dell'eccellenza. Uomo, donne e accessori. Cogli la promozione autunno 2017. Il regalo per te un pullover lana cashmere per ogni 250 euro di acquisto. Un'occasione valida nei negozi scaglione di via Alfredo De Luca e Corso Vittoria Colonna ad Ischia. Scaglione, la boutique dell'eccellenza a Ischia dal 1934. Mese di dicembre, l'atmosfera natalizia, la crea la ditta la raspata, pandoro con crema fior di latte, panettone farcito con crema allo zabaione, pandoro ricoperto al cioccolato bianco, tronchetto con crema al biscotto e caramello e pandor babà, 12 monoporzioni di pasta babà al rum con crema al burro. Per un dolce natale ed un goloso capodanno. Festeggia con i nostri dolci prodotti. Prenotali telefonando allo 081 90 27 56 oppure li trovi in tutti i supermercati, barri e alimentari dove è esposta la nostra locandina. Per il tuo bianco natale, la raspata, gli uomini del freddo. Sempre al tuo fianco. abc per respirare l'atmosfera natalizia. Abc, la tradizione, il presepe, i pastori, gli addobbi natalizi. Abc, grande assortimento di alberi ignifugi, decorazioni, festoni ed illuminazioni. Abc, un mondo di belle idee. Abc, siamo a Ischia Port sulla riva sinistra. Abc, e illumina il tuo natale. Citarra, il Tar accoglie il ricorso. Il comune dovrà demolire gli abusi. Accolto il ricorso presentato dalla signora Teresa Del Deo. Il comune dovrà eseguire l'ordinanza di demolizione. Il biotestamento e legge ok definitivo dal Senato. Da oggi potremo decidere quali interventi consentire sul nostro corpo. Per cure e nutrizione serve il sì del paziente. Procida un milione di euro per la scuola di Via Libertà. Il finanziamento della Regione Campania servirà per l'adeguamento e l'efficientamento energetico del plesso scolastico. Turismo. Claudio Cigliano. Occorre rilanciare l'isola. Il commissario confcommercio dell'isola d'Ischia sottolinea l'importanza di una strategia unitaria per la promozione e di rilancio dell'isola intera. E dopo il telegiornale l'Isola 7 con in studio Luigi Mennella, Luciano Castaldi ed Alberto Di Lauro. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. Partiamo con l'allerta meteo. Infatti la protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità idrogeologica di colore arancione, valevole a partire dalle 12 di domani fino alla stessa ora di sabato prossimo. Su tutta la Campania sono attesi venti localmente forti, con rafiche nei temporali e mare localmente agitate. A Forio prosegue la battaglia sull'occupazione del piazzale di Citara. Il Tribunale Amministrativo della Campania ha accolto il ricorso presentato dalla signora Teresa Del Deo. Il Comune di Forio dovrà quindi eseguire l'ordinanza di demolizione degli abusi realizzati sul piazzale di Citara. Vediamo i semizi. A Forio prosegue la battaglia sull'occupazione del piazzale di Citara. Il Tribunale Amministrativo della Campania ha accolto il ricorso presentato dalla signora Teresa Del Deo, rappresentata dall'Avvocato Bruno Molinaro, contro il Comune del Torrione, colpevole di essere rimasto silente su una precedente diffida della signora Del Deo, con la quale il Comune veniva invitato ad eseguire un ordine di demolizione nei confronti titolare del bar Il Panino, responsabile di abusi edilizi sul suolo comunale. Teresa Del Deo è proprietaria di un locale che si affaccia sulla piazza di Citara e che confina direttamente con il suolo pubblico oggetto delle concessioni rilasciate dal Comune di Forio a Giacinto Matera e successivamente revocate. Con la sua diffida a febbraio del 2017, la Del Deo chiedeva al Comune che venisse eseguito l'ordine di abbattimento del marzo del 2016. Con l'accoglimento del ricorso, il Tar Campania obbliga il Comune a provvedere alla demolizione, ultimando le procedure necessarie entro 30 giorni. Scaduto vanamente detto termine, su richiesta del ricorrente sarà nominato un apposito commissario ad acta. L'Avvocato Molinaro precisa che il Tar ha già nominato il commissario per l'ipotesi di perdurante inottemporanza, prefigurando anche la responsabilità erariale in caso di ulteriori condotte omissive. Questo è solo l'ultimo atto di una lunga battaglia che va avanti da quasi due anni sull'occupazione del piazzale di Citara, una battaglia combattuta tra ripicche reciproche, denuncia l'autorità giudiziaria e interventi o domissioni dell'amministrazione di Forio. Chissà se siamo giunti al prologo o se dobbiamo ancora aspettarci qualche colpo di scena. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha inaugurato questa mattina il nuovo reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale pediatrico Santo Bono Pausillipon di Napoli. Questa nuova struttura di reanimazione pediatrica è unica nel meridione. Il reparto è fornito di 15 posti letto su 700 metri quadrati, una sala per gli interventi invasivi e due sale per i genitori che assistono i figli degenti. Il nuovo reparto è costato un milione e mezzo di euro con fondi della Regione ed il 20% dei privati. Sarà inoltre recuperata anche una palazzina dismessa che c'è nel Pausillipon per creare una struttura di accoglienza per i familiari dei pazienti. Vediamo il semizio. Un altro dei punti di eccellenza della sanità campana, già il Santo Bono è l'ospedale pediatrico più importante del sud Italia. Oggi si arricchisce di un reparto di terapia intensiva pediatrica che non esisteva. La cosa straordinaria è che abbiamo non solo l'eccellenza delle prestazioni sanitarie ma anche una grande umanizzazione nel rapporto con i pazienti e con i familiari dei pazienti. Completeremo questo intervento recuperando anche una palazzina dismessa che c'è nel Pausillipon proprio per creare una struttura di accoglienza per i familiari dei bambini che sono in cura. Veramente è un lavoro entusiasmante ed è un punto di grande qualità della nostra sanità che merita di essere valorizzato in pieno. Abbiamo fatto partire la richiesta perché diventi un IRCS, anche il Santo Bono, un centro di ricerca riconosciuto anche nazionalmente. Siamo molto fiduciosi e molto orgogliosi di questa struttura. Ho detto che abbiamo già inserito 1.800 dipendenti fra medici e infermieri nelle nostre strutture. Avendo concordato il piano ospedaliero dobbiamo adesso mandare in conseguenza di quel piano ospedaliero anche la dotazione di personale che la Regione Campania chiede al Ministero della Salute e dell'Economia. Credo che ci attesteremo su una richiesta di altri 4.000 dipendenti. E questo ci consentirà di andare veramente a regina. Siamo particolarmente contenti di questa realizzazione perché era un reparto che da oltre 20 anni non veniva ristrutturato ed è stato ristrutturato in una maniera assolutamente innovativa, moderna, non solo nella struttura e nelle tecnologie, con aree anche di isolamento per i pazienti più complessi per i pazienti infettivi e con una struttura di neuro-riabilitazione codice 75 che per la prima volta viene inaugurata in Regione Campania. Ovviamente questo consentirà il recupero della mobilità passiva e una possibilità anche di umanizzazione delle cure perché questa rianimazione sarà una rianimazione aperta con la presenza per tutto il tempo possibile dei genitori accanto ai loro figli e nella struttura di subintensiva della neuro-riabilitazione addirittura abbiamo previsto il roaming quindi la presenza costante anche poter far dormire i genitori all'interno delle stanze e le stanze di accoglienza dei genitori perché i genitori che vengono da fuori provincia e da fuori regione dormiranno all'interno del reparto su un modello già sperimentato in terapia intensiva neonatale e che ha trovato tanto riscontro diciamo nei genitori. Il presidente nella sua visita ha potuto incontrare una mamma nella terapia intensiva neonatale che proveniva dalla Sicilia e che può stare vivere l'intera giornata accanto al figlio e essere di vicino in una struttura accogliente e abitativa all'interno dell'ospedale. Il senato ha approvato la legge sul fine vita da oggi anche in Italia si potrà decidere se e come essere curati alimentati o idratati da oggi ognuno di noi potrà scegliere in anticipo quali interventi consentire sul proprio corpo nel caso in cui si venga colpiti da una malattia che non permette di esprimere la propria volontà. Vediamo i servizi. Con un grande applauso l'aula del senato ha accolto il via libera al provvedimento sul bio testamento. I sì sono stati 180 71 i no e 6 gli assenuti. Era il 9 febbraio 2009 quando nella stessa aula che oggi ha votato il provvedimento arrivò la notizia della morte di Luana Englaro, proprio mentre era in corso la discussione del disegno di legge che avrebbe dovuto impedire l'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione forzata. L'annuncio venne eletto dal presidente del senato Renato Schifani e accolto dalle grida di tutta la maggioranza di centrodestra. Alcuni senatori iniziarono a gridare assassini verso i colleghi dell'opposizione e verso coloro che non si opposero all'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione. Gaetano Quagliariello, all'epoca capogruppo del PDL, intervenne e dichiarò che Luana non è morta, Luana è stata ammazzata. Dure anche le accuse nei confronti del presidente della Repubblica di allora, Giorgio Napolitano, accusato dal PDL di non aver voluto firmare il decreto che imponeva il ripristino dell'idratazione e dell'alimentazione nei confronti della ragazza in coma da 17 anni. Quel giorno fu chiaro a tutti che ormai non si poteva più rinviare una legge che disciplinasse il delicato tema del fine vita. Prima di Luana la storia di Pier Giorgio Welby e poi ancora quella di Giovanni Nuvoli, Lucio Magri, Paolo Ravasin, Walter Piludu e poi quella di tantissimi altri uomini e donne mai arrivate agli onori della cronaca ma che nel silenzio delle loro stanze hanno chiesto allo Stato e dalle istituzioni di normare un tema che non poteva essere lasciato all'arbitrio di un tribunale. Ogni volta la politica sottolineava la necessità di un intervento legislativo, ogni volta i tentativi si chiudevano con un nulla di fatto. Sono passati poco o meno di dieci anni ma da oggi finalmente anche nel nostro paese sarà possibile scegliere come e se essere curati, alimentati ed idratati. A seguire le dichiarazioni di voto dalla tribuna ospiti anche i dirigenti dell'associazione Luca Coscioni tra cui Mina Welby. Le norme erano state già approvate alla Camera mesi fa, ha dunque retto rasse tra il centro-sinistra, PD, MDP e il Movimento 5 Stelle da sempre favorevole al provvedimento. Forza Italia ha lasciato libertà di coscienza mentre è rimasto compatto il fronte del no collega e centristi in prima fila. Il testo è il risultato di un lavoro complicato di sintesi. L'articolo 1 della legge prevede che nessun trattamento e diagnosi possano essere iniziati o preseguite senza il consenso libero e informato, espresso in forma scritta o con dispositivi informatici. Il diritto di rifiutare le cure non legittima alcun comportamento commissivo volontario però da parte del medico volto a procurare la morte del malato. Ogni soggetto maggiorenne può stabilire per il periodo in cui sarà incapace di intendere o volere o non potrà stimersi a quali cure e accertamenti sottoporsi nominando un fiduciario cioè un soggetto che lo rappresenti nella relazione con il medico e lo sostituisca nell'assunzione delle scelte. I sanitari sono tenuti a rispettare la volontà contenuta nella data. La giunta regionale della campagna ha approvato lo stanziamento di 170 milioni di euro per finanziare interventi di messa in sicurezza, adeguamento antisismico e nuova costruzione di edifici scolastici. Si tratta di investimenti destinati ad opere immediatamente cantierabili o a uno stato avanzato della progettazione. È stata deliberata tra questi la concessione di un nuovo finanziamento per strutture scolastiche nell'isola di Procida. Ne dà notizia il sindaco Dino Ambrosino. Sono stati accordati 994 mila euro per l'adeguamento del plesso materno di Via Libertà, prevedendo anche un importante investimento per installare pannelli solari. Con l'efficientamento energetico, dice il sindaco, il comune a regime risparmierà 30 mila euro l'anno per il riscaldamento del plesso. Grazie al presidente De Luca e all'assessore Lucia Fortini per aver reperito queste risorse importanti. Nel pomeriggio di oggi si è svolto un proficco incontro tra l'amministrazione comunale di Procida, rappresentata dal vice sindaco Titta Lubrano, e dall'assessore Rossella Lauro ed esponenti delle categorie produttive. Erano presenti il presidente di Casa Artigiane, Maurizio Frandellizzi, e Salvatore Trapanese, in rappresentanza dell'ASCOM. Oggetto dell'incontro lo SPRAR, il sistema di accoglienza ai migranti che dovrebbe avere inizio nel mese di gennaio. Il vice sindaco ha brevemente ricostruito la cronistoria del progetto, rivendicandone innanzitutto la valenza morale, ma sottolineando come lo stesso si possa rivelare pregno di opportunità culturali e di ricadute economiche sul territorio. I rappresentanti di ASCOM e Casa Artigiane, in questo senso, hanno stabilito di concerto con gli amministratori di comunicare ai propri iscritti questi possibili vantaggi, derivanti dalla fornitura di merci e servizi, ed hanno concordato di discutere i dettagli tecnici prossimamente avvalendosi dei consigli degli addetti della cooperativa LES a giudicataria del Banno. Domenica prossima, 17 dicembre, sarà effettuato l'intervento di manutenzione all'arco principale dell'acquedotto dei pilastri ad Ischia. Per consentire il rapido completamento dell'operazione, la Polizia Municipale ha ordinato il divieto di circolazione sul tratto di via Michele Mazzella, che attraversa l'arco principale dell'acquedotto, dalle 6 alle 11 di domenica mattina. Natale a Forio, belle le luminarie ed il cartellone degli eventi, ma da soli non bastano. Lo ha sottolineato Claudio Cigliano, commissario di Confcommercio per l'Isola d'Ischia. Occorre una strategia unitaria per tutta l'isola con la promozione delle iniziative all'esterno e in tempo. Solo così, dice Cigliano, si potrà portare un vero rilancio per attrarre la clientela più numerosa nelle nostre località. Sentiamo. Natale a Forio 2017, anche quest'anno un cartellone ricco di eventi. Come reagiscono i commercianti a questi eventi Claudio Cigliano? Sono opportuni per un rilancio turistico di questa località? Sicuramente fanno un po' di differenza, anche se sono convinto che la strategia deve essere unitaria e isolana. In questa direzione ci stiamo vedendo anche con la Confcommercio. Quindi spero che dal prossimo anno si riesca ad avere una regia globale per l'Isola d'Ischia che possa portare un vero rilancio perché penso che facendolo anticipatamente si riesce a promuovere come Isola d'Ischia tutta e forse ad attrarre un po' di clientela perché le belle luminari, i bei programmi che non vengono promossi all'esterno dell'Isola per tempo restano una bella iniziativa che poi però non si concretizza in numeri che sono soddisfacenti per la categoria. In effetti se fosse proporzionale al numero delle lampadine il numero dei clienti che entrano nei negozi sarebbe un grande risultato perché lo sforzo delle varie amministrazioni è grande per cercare di rendere festoso il Natale. Credo che dobbiamo cambiare strategia, penso che vanno messe assieme tutte le teste e in modo corale si cerchi di destagionalizzare, di allungare la nostra stagione turistica. Ne abbiamo tutta la possibilità, sicuramente le spa, le terme che abbiamo che sono bellissime possono darci quel quid in più, possono essere promosse per l'inverno e quindi attirare un numero di clienti, di turisti maggiori e tanti turisti significa avere anche dei clienti. Tutto questo anche per lasciarci indietro l'effetto negativo del dopo terremoto in effetti? Assolutamente sì, la situazione è molto difficile per le imprese. Quest'anno con questa disgrazia che ha colpito l'isola d'Ischia si è ulteriormente contratta la stagione turistica quindi le imprese stanno facendo ancora più salti mortali, c'è tanta difficoltà per andare avanti ed è proprio forse da questa crisi ancora più forte può nascere finalmente l'unione per cercare insieme di promuovere Ischia come unità non più nei singoli comuni che non porta grande giovamento. Da qui quindi nasce la necessità di ritrovare un momento di unità con una rinnovata ASCOM Commercio che abbracci tutta l'isola. Da Napoli hanno cambiato regime, hanno pensato di azzerare tutto e partire con un modello nuovo che andasse verso macro aree. Necessariamente per l'isola d'Ischia è importante poter parlare come isola d'Ischia tutta. Nell'ambito di una campagna nazionale di tutela ambientale questa mattina la Guardia Costiera di Ischia e l'Associazione Marevivo hanno incontrato gli alunni delle classi quarte della scuola elementare dell'istituto comprensivo Vincenzo Menella di Lacoameno. Diversi gli argomenti trattati dal comandante De Angelis e dal dottor Monti di Marevivo nell'ambito del progetto Delfini Guardiani. La tutela e del rispetto dell'ambiente marino e costiero con riferimento ai compiti della Guardia Costiera in materia di vigilanza e di controllo. Le fonti di inquinamento marino e la tutela delle risorse dell'ambiente mare e le specie marine protette e l'area marina protetta Regno di Nettuno. Il terremoto del 21 agosto ha segnato in modo irreversibile la situazione economica della nostra isola. Franco Di Costanzo lancia l'allarme. Per quest'anno siamo riusciti ad arginare i problemi e a tenere il personale, ma se non cambia qualcosa e le amministrazioni non interverranno in modo strutturale, saremo costretti noi albergatori a ridurre i dipendenti che rischieranno anche di perdere la disoccupazione. Sentiamo. Franco Di Costanzo si sta chiudendo il 2017, un anno che aveva in qualche modo dato, almeno all'inizio, qualche piccola speranza sul futuro, poi con il terremoto si è bloccato tutto. Tante le problematiche a questo punto bisogna affrontare, prima di tutto quella dei dipendenti che rischiano effettivamente di non avere la disoccupazione. Sì, diciamo che quest'anno tutti quanti abbiamo mantenuto i nostri impegni con i dipendenti, perciò è stato un fatto molto positivo e in effetti non hanno perso niente. Quello che siamo naturalmente preoccupati è per il futuro, perché naturalmente non è che l'imprenditore poi ogni anno possa sopperire a certe carenze che ci sono sull'isola di Ischia. Noi in questo momento non siamo né pessimisti né ottimisti, stiamo attendendo un pochettino i primi dati che dovrebbero arrivare entro la fine di gennaio anche dai mercati stranieri per poi dopo decidere. Certo, se non ci diamo tutti quanti una mossa il problema diventerà grande, perché poi non è solamente il mio, sarà il personale di tutte quante l'isola di Ischia. In questo momento ogni imprenditore non riesce a dare una risposta precisa, anche se naturalmente avendo gente che stanno con noi da 30 anni stiamo facendo di tutto affinché perlomeno i 6-7 mesi riescono a lavorare. Si rischia inoltre un effetto a cascata, perché poi il problema con il dipendente dell'albergo diventa un problema per le agenzie ischitane, diventa un problema per i negozi, per le attività commerciali, i ristoranti. Certo, vedi quello che mi dà fascino in questo momento è che i politici oppure l'imprenditoria in generale non ne parla, siamo tutti quanti fermi, stiamo aspettando come al solito che all'improvviso qualche miracolo succede, invece bisognerebbe cominciare a parlarne e decidere un po' tutti quanti insieme che cosa vuole fare. Oramai il problema terremoto la gente se l'è dimenticato, solo che purtroppo insieme al terremoto si sta dimenticando anche dell'isola di Ischia. Invece noi dobbiamo rinnovare questo nome che secondo me è ancora sotto diciamo reclamizzato ed è poco conosciuto da tutta la gente. Non ci scordiamo che nonostante il terremoto Ischia fino alla fine di giugno, a metà luglio, aveva un calo del 6%. Anche questo ci deve far riflettere, vuol dire che al mese di marzo, aprile e maggio non abbiamo avuto quel tipo di clientela che avevamo di solito e che la stagionalità purtroppo si sta accorciando. Più si accorciano le stagionalità e meno ci saranno soldi a disposizione non solo dell'imprenditore ma anche dei lavoratori e di tutte le famiglie. Perciò diventerà anche un problema sopravvivere durante l'inverno nel momento in cui anche la disoccupazione è stata diminuita. Cioè chi non farà gli otto mesi prenderà solamente tre mesi, chi ha lavorato sei mesi prenderà solamente tre mesi. Perciò anche lì sarà un introito importante che nel paese non circolerà più. Io faccio anche un'altra cosa, in questo momento grossi lavori non se ne fanno, si fanno solo lavori di facciata. Ho visto anche le case in giro di Schiaponte, fanno solo lavori di facciata. Perciò vuol dire che in questo momento la disponibilità è scarsa. Dalla sera del terremoto del 21 agosto con l'abbandono delle abitazioni inagibili sono stati lasciati senza cura gli animali, soprattutto cani e gatti che sono sopravvissuti, soprattutto grazie alle cure dei volontari che si sono prodigati per portare loro del cibo ogni giorno. Tra questi Roberta Marchetti e Carmela Senatore che si preoccupano anche delle condizioni di salute degli animali, della loro sterilizzazione e dell'eventuale adozione. Ma gli animali sono tanti e le forze scarseggiano. Per questo le due volontarie cercano aiuto. Sentiamo. Parliamo di una bella notizia, una cosa bella che viene dietro il famoso ormai terremoto del 21 agosto. Loro si occupano degli animali che restano lì abbandonati nelle macerie della zona rossa di Piazza Maio e zone limitrofe. Carmela, come vi è venuta questa idea di voler soccorrere questi cani e gatti che si trovano lì? Vabbè, dopo il terremoto ovviamente ci siamo preoccupate della situazione dei animali, anche dopo la chiusura dei vari alberghi dove gli animali stessi si appoggiavano per mangiare. E quindi siamo andati a pellustrare la zona, abbiamo visto che ne avevano bisogno e quindi da allora abbiamo iniziato fino adesso. Quanti ce ne sono? Avete fatto una stima, Roberta, di quanti sono? Intorno ai 200 gatti e cani rinchiusi che sono stati abbandonati dai padroni, due o tre. Quindi voi dal 22 agosto, praticamente dal giorno dopo, andate lì e cosa fate? Diamo cibo, catturiamo per sterilizzazioni, diamo assistenza medica, adozioni anche. Quindi ci occupiamo un po' di tutto. Non solo noi, abbiamo anche altre persone che una volta a settimana o due volte a settimana ci sostituiscono nel giro pappe. Io ho due gatti terremotati che sono stati soccorsi da noi, da me e Carmela, e sono in stallo da me, tra cui uno va in adozione il 19. Bello anche vedere che c'è anche altra gente, è una rete che continua, no? Che c'è gente che vuole averle in affidamento poi questi animali, è importante capire che c'è tanta solidarietà. Certo, se ci fosse anche braccia sarebbe anche una buona cosa, anche per noi. Ma soprattutto io chiedo ai sindaci, sono sei comuni, abbiamo bisogno di una struttura perché gli animali da là vanno spostati e vanno messi in sicurezza. Soprattutto i cani che non hanno la possibilità di scappare in un eventuale crollo futuro perché non si può mai sapere. Noi chiediamo a uno dei sei sindaci del comune di Ischia di darci una possibilità di accudire questi animali sotto un territorio tranquillo e sereno anche per loro perché non è neanche giusto, anche loro hanno subito un trauma. Mi serve una mano sia manuale che conforto spirituale, sì, infatti. Di terremoto e ricostruzione ci occuperemo questa sera nell'appuntamento settimanale dell'Isola 7. Interverranno in studio l'opinionista Foriano Luciano Castaldi, il musicista casamicciolese Alberto Di Lauro, il capogruppo di Nuova Casamicciola Luigi Mennella. Si parlerà anche dei pagamenti, dei contributi per l'autonoma sistemazione e della situazione degli edifici scolastici di Casamicciola e l'Acquameno. Appuntamento tra poco, quindi, subito dopo questa edizione del telegiornale. La pagina sportiva, il calcio, la vittoria del Real Forio in Coppa Italia che ieri al Salvatore Calise ha battuto la Maddalonese aggiudicandosi il passaggio alle semifinali ha suscitato l'entusiasmo del presidente dei Biancoverdi, Luigi Schiano. Finalmente, dice, i ragazzi hanno mostrato carattere. Il nostro obiettivo resta comunque la salvezza. Sentiamolo. Il presidente del Real Forio, Luigi Schiano. Luigi, si va in semifinale di Coppa Italia di Lettanti. Soddisfatto della prestazione della squadra? Diciamo, buonasera a tutti, diciamo che i ragazzi incominciano a cacciare carattere fuori dopo sempre l'1-0. Prima non riescono ad entrare in partita. Però il cambiamento c'è stato, il carattere c'è e speriamo che sia la stagione giusta. Adesso si sogna in grande? Bisogna mantenere sempre i piedi a terra perché il nostro obiettivo è la salvezza e con i piedi a terra bisogna portare i punti a casa. Si svolgerà domani, venerdì, la festa dell'albero all'Istituto Vincenzo Mennella di L'Acquameno. Saranno messe a dimora le piantine aromatiche dei piccoli arbusti. La piantumazione sarà accompagnata da una performance dell'attrice Alessandra Calabrese e da un piccolo laboratorio sulle virtù curative delle piante. Un laboratorio di scrittura dal titolo Se io fossi un albero concluderà l'incontro. I laboratori saranno condotti da educatori e volontari di Lega Ambiente e dell'Associazione Gli Alberi e Noi. Sempre domani, venerdì alle 19, verso la Biblioteca Antoniana di Ischia, la giornalista Piera Carlo Magno insieme alla professoressa Anna Di Meglio presenterà il suo ultimo libro, Intrigo ad Ischia. Sabato alle 9.30 al centro diocesano Papà Francesco di Ischia sarà presentato il progetto Volontari in Rete attraverso il quale una serie di organizzazioni di volontariato con la regia della ONLUS Gabbiani e i contributi di fondazione con il Sud scendono in campo per operare sul tema della disabilità sulle isole di Ischia e Procida sostenendo con forza l'attività delle famiglie. Il progetto prevede laboratori che abbracciano più discipline dallo sport alla poesia passando per il cinema e per l'arte. Presso la Galleria Ielasia di Schiaponte si inaugura sabato alle 18 la mostra Genius Loci con opera di Luigi De Angelis, Saniel Antonio Mascolo e Michele Petroni. L'esposizione sarà visitabile fino al 7 gennaio dalle 18 alle 20.30. Lunedì prossimo, 18 dicembre alle 10.30, presso la stazione marittima Fabrizio Borgogna di Procida in occasione della giornata internazionale per i diritti dei migranti ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica Accogliamo i Sogni immagini, storie di vita, volti che raccontano la storia delle nuove migrazioni. Adriana Biasco, delegata di Mare Vivo per l'Isola Dischia comunica che è stata indetta in una conferenza stampa L'Isola Verde si tinge di blu, l'evento organizzato da Mare Vivo al fine di presentare il progetto Nautici in Blu realizzato dall'Associazione dei diversi istituti nautici italiani. La conferenza stampa si terrà martedì prossimo alle 10.30 presso il centro Papa Francesco a Dischi Ed ora come sempre il meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione Previsioni per oggi Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita In montagna, schiarite alternate a nubi sparse Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse In montagna, schiarite alternate a nubi sparse Previsioni per domani Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piogge In montagna, nubi irregolari con acquazioni intermittenti Nel pomeriggio, sulle coste, molte nubi con deboli piogge intermittenti In montagna, nubi e schiarite con possibili fiovaschi Bene, chiudiamo questa edizione del telegiornale Vi lascio quindi, come sempre, all'Isola 7 Per parlare di terremoto e ricostruzione, ma non solo Prossima edizione del telegiornale, alle 14 Arrivederci Per parlare di terremoto e ricostruzione, ma non solo